Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto attore Luca Argentero e sua moglie Cristina Marino hanno deciso di trascorrere una vacanza alle Baleari in Spagna, insieme ai loro due figli, Nina Speranza e No Roberto. Pur mantenendo la privasi dei bambini e non mostrando i loro volti sui social, la coppia ha condiviso con i fan alcuni momenti della loro fuga di famiglia. Tra momenti di relax in spiaggia e corse dietro ai piccoli Nina e No, Luca e Cristina sono riusciti a trovare anche del tempo per riposarsi. Il settimanale chi li ha sorpresi in spiaggia mentre si prendevano cura dei bambini, regalando sorrisi, abbracci e un po' di sana stanchezza legata alla gestione dei piccoli. Non sorprende vedere Luca e Cristina in vacanza con i figli, poiché l'attore stesso ha sempre mostrato un forte attaccamento alla famiglia. Durante la sua partecipazione al programma La vita in diretta con Caterina Balivo, Luca ha dichiarato che per lui la famiglia è la priorità assoluta, dedicando gran parte del suo tempo e delle sue energie ai figli. Questa vacanza alle Baleari sembra essere stata un momento di puro relax e divertimento per la famiglia Argentero Marino, che ha saputo godersi appieno il tempo trascorso insieme, lontano dagli impegni lavorativi. Un esempio di come sia importante trovare il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia anche per le celebrità come Luca.